Manila Nazzaro è fidanzata e vita privata. L'attrice showgirl Manila Nazzaro oggi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di oggi e un altro giorno e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Ha annunciato che rivelerà alcuni scottanti dettagli sulla rottura con l'ex Lorenzo Amoruso. Tutti si chiedono se lei abbia trovato un nuovo amore oppure no siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul suo nuovo fidanzato. Manila Nazzaro ha avuto una vita amorosa molto turbolenta. La prima relazione importante è stata con Francesco Cozza. La coppia ha dato alla luce due figli, Michele e Francesco Pio. Tra loro l'amore sembrava andare a gonfie vele. Tant'è che sono convolati a nozze nel 2007. Tuttavia, dopo qualche anno le cose si sono incrinate e dopo un periodo difficile e tormentato. Hanno deciso di prendere due strade diverse. Da quanto raccontato la rottura sarebbe stata tutt'altro che facile. Soprattutto per i figli. La scelta ha comunque portato Manila Nazzaro e Francesco Cozza a voltare pagina e a ricominciare. La show girl ha vissuto un'altra storia d'amore molto importante con Lorenzo Amoruso. Tutti si chiedono se Manila ad oggi abbia ritrovato l'amore oppure no per il momento non ha voluto rispondere a questa domanda. Ma ha lasciato intendere in più occasioni di aver bisogno di un po' di tempo. Si sa. Dopo una grande rottura, è necessario il tempo giusto per rimettersi in pista. Pare che ad oggi sia singolo e si concentri soprattutto sui suoi due figli che tanto ama. Soprattutto per rimettersi in pista. Soprattutto per i figli.